Siamo molto onorati di questa scelta che abbiamo fortemente voluto insieme al popolo napoletano che si è fatto promotore di una bellissima petizione via web. Alberto Angela lo merita non solo per la sua storia di giornalista, di divulgatore scientifico, di storico, di ambientalista, ma per come ha avuto la capacità di entrare nel corpo, nel cuore e nell'anima della nostra città, di raccontarla con onestà intellettuale, di conoscere l'umanità di questa città, di comprendere la proiezione senza confini e le parole che ha detto sono davvero per noi motivo di grandissimo orgoglio perché non è facile trovare persone che con questa competenza, professionalità e passione sanno raccontare Napoli e il suo popolo, quindi è una cittadinanza onoraria davvero meritata. Oggi abbiamo un immenso divulgatore scientifico che con grande eticità, professionalità, competenza, passione e amore saprà raccontare Napoli in Italia, in Europa e nel mondo.